Non dico assolutamente nulla in relazione a questa vicenda perché non conosco i contenuti anche di questa iniziativa delle ultime ore. Se vuole posso dirle quello che penso io rispetto al campo Rom di Scampiglia. Io credo che sia un problema da risolvere di petto. Non possiamo più consentire di avere situazioni di illegalità esplicita. Non possiamo più consentire senza muovere un dito che ci sia in quel campo Rom qualcuno che ha realizzato immobili in cemento armato. Che ci sia gente che ruba la corrente elettrica, l'acqua, che sversa non si sa dove. Questo problema va risolto. Come sempre muovendosi su due piani. Un piano di umanità, accogliendo le famiglie che vogliono vivere in maniera civile, dando una mano a mandare a scuola i bambini, ad accoglierli nelle strutture sociali per chi vuole adottare comportamenti di vita civile. Per il resto, sgombero. Punto.